Buongiorno, nella mia relazione che tratta di burocrazia e democrazia, modelli a confronto, vorrei in qualche modo prendere le mosse dalla caratterizzazione del modello classico di burocrazia, quello weberiano che si è andato affermando nella costruzione dello Stato moderno e in prima battuta vorrei in linea di grande semplificazione enuclearne i tratti distintivi. Dopodiché, secondo punto del mio ragionamento, è la constatazione che nelle aree in cui lo Stato moderno si è precocemente instaurato, e ho in mente principalmente l'Europa continentale e il mondo anglosassone, questo sviluppo è stato parallelamente accompagnato dallo sviluppo di una burocrazia pubblica che si è andata conformando tendenzialmente all'idea del tipo weberiano, dando così sostanza ad un binomio Stato moderno-Stato burocratico, binomio che nel corso del Novecento è diventato trinomio Stato moderno, burocratico e democratico, nel senso che la burocrazia si è rivelata essere il principale strumento a disposizione dei governi democratici per la piena implementazione di quelle tre generazioni di diritti civili, politici e sociali di cui parla Marshall. Se, come dire, questa linea tendenziale di sviluppo ha accumulato le poliarchie mature, in epoca a noi più vicina, negli ultimi trent'anni del Novecento, le stesse democrazie mature hanno vissuto un'epoca di grande contestazione agli apparati pubblici e alle burocrazie. Questo è il terzo passaggio del mio ragionamento. Critiche volte sovente a colpire l'eccessivo costo degli apparati pubblici, la loro presunta inefficienza, la loro presunta inefficacia nel rispondere ai bisogni dei cittadini o, per meglio dire, degli utenti. Critiche che hanno trovato l'elaborazione intellettuale più matura nel cosiddetto New Public Management, quella scuola, quella linea intellettuale di segno liberale radicale che ha ispirato le scelte di policy di Ronald Reagan negli Stati Uniti, di Margaret Thatcher in Gran Bretagna, che nasceva, se vogliamo, dalla equiparazione della sfera pubblica a quella del mercato. La critica, insomma, era che in campo pubblico non vi è la piena trasposizione dei meccanismi che regolano il mercato. E da questo punto di vista proverò a passare velocemente in rassegna le scelte dei governi che paiono essersi ispirati a questi principi e a valutarne succintamente gli effetti. alcuni dei quali decisamente confliggenti con il modello classico di burocrazia, secondo Max Weber, alcuni su tutti, la deprofessionalizzazione degli apparati burocratici, nonché la loro politicizzazione che si unisce in qualche modo a sviluppi quindi deteriori rispetto ad un approccio neo-weberiano. Concluderò però il mio intervento cercando in qualche modo un recupero delle ragioni weberiane che ancora oggi depongono a favore di una piena adesione a quell'idea al tipo, se vogliamo, insieme ad una burocrazia efficiente, garantire anche la tenuta dello stesso tessuto democratico delle poliarchie mature. Vediamo allora quali sono i tratti distintivi della burocrazia secondo Max Weber. Possiamo portarli a sintesi in sei punti. Primo punto, vi è innanzitutto un principio generale di competenza, cioè la burocrazia è titolare di un'area di competenze fissa o ben determinata attribuita da che cosa? Da regole esplicite, le leggi o i regolamenti amministrativi. E' facile riconoscere in questo succinto ritratto la forma più emblematica della legittimità legale e razionale, che secondo Max Weber non a caso trova pieno di spiegamento solo con lo sviluppo dello Stato moderno. Secondo elemento, secondo tratto distintivo, gerarchia, la burocrazia moderna implica la sovra o la subordinazione dell'autorità e conseguentemente degli uffici o delle cariche, che a loro volta prevedono il controllo delle posizioni inferiori ad opera delle posizioni superiori. Questo è un principio cardine, quello gerarchico della burocrazia moderna secondo Weber. Terzo principio, tre elemento che ci aiuta a caratterizzare questo modello. La gestione della burocrazia moderna si fonda su documenti scritti, il che rende necessario un'ulteriore articolazione organizzativa deputata appunto alla documentazione e alla conservazione di quelle che nel linguaggio comune si chiamano i faldoni o i documenti o i file oggi. E' evidente un riferimento a un principio di trasparenza, quindi di opponibilità ai terzi. Quarto elemento della burocrazia Weberiana, la gestione degli uffici, il loro mantenimento, in particolare quegli uffici più specializzati di altri, che contraddistinguono, non a caso, organizzazioni dello Stato moderno, presuppone una formazione specifica di coloro destinati a ricoprire questi incarichi, sia nel pubblico che nel privato. Quinto elemento, il pieno sviluppo della burocrazia moderna richiede che l'attività lavorativa del funzionario sia a tempo pieno, sia completamente assorbita dai lavori di ufficio. Evidente qui il contrasto con forme di organizzazioni precedenti come quelle medievali, dove il funzionario era per così dire un funzionario part-time o addirittura amatoriale. Sesto elemento, la gestione dell'ufficio segue regole generali, che sono più o meno stabili, più o meno esaustive, suscettibili quindi di essere apprese. Anzi, la loro conoscenza individua una specifica abilità tecnica che i funzionari devono possedere e che assomma competenze giuridiche, amministrativi o di business management. In queste caratteristiche non è difficile riconoscere l'esemplificazione, come dicevo prima, forse più completa della organizzazione in cui domina un principio di legittimità del potere che è legale e razionale. Cioè, l'autorità non deriva né dalle doti personali funzionari, il carisma, né dal cosiddetto potere di ordine tradizionale, dal fatto che le cose si sono sempre fatte in quella maniera. Al contrario, il potere deriva dall'occupare una carica entro una organizzazione gerarchica dove la regola è la legge, la regola è la fonte del potere. E da questo punto di vista non dimentichiamo che le stesse caratteristiche positive della burocrazia potevano a lungo andare, secondo Weber, diventare una minaccia per la democrazia, l'anticamera di quella gabbia d'acciaio del quale Weber stesso lo ha preoccupato e i giuristi ricorderanno su questa base le sue critiche alla Costituzione chelseniana di Weimar, per esempio. Vediamo come si abbiano democratizzazione e sviluppo della democrazia. Cosa intendo dire? Lo Stato moderno si è sviluppato parallelamente e con un processo che ha visto l'accompagnamento di questo sviluppo storico con un fenomeno del tutto speculare, cioè quello dello sviluppo di un apparato burocratico che è sostanzialmente coinciso con la progressiva implementazione dei tratti distintivi che abbiamo visto essere propri della burocrazia weberiana. Certo, Weber è stato criticato da alcuni autori perché egli aveva un riferimento ben preciso nel momento in cui enucleava quei tratti era la burocrazia fondamentalmente della Prussia della seconda metà dell'Ottocento ma è altrettanto vero che la preoccupazione di Weber stava anzitutto nel esplicitare quelle che sono le condizioni per le quali un ordinamento democratico può essere mantenuto stabile quindi può superare con successo le sfide, le minacce e la sua stabilità e egli vedeva la burocrazia come una delle risorse che potevano rendere possibile questo successo. Quindi non è un caso se lo sviluppo della democrazia di massa moderna e quello che è stato poi riconosciuto come lo sviluppo della burocrazia sono proceduti diciamo così mano nella mano. Ad esempio tutti i leader degli stati democratici emergenti tra il diciottesimo e il ventesimo secolo hanno asserito che qualsiasi finalità lo Stato si ponesse sia esso il controllo dei confini il controllo delle entrate fiscali l'implementazione con successo delle regole democratiche la conduzione di una campagna militare e così via l'elenco potrebbe essere lungo esterminato ecco ciascuna di queste funzioni presuppone l'esistenza di uno strumento organizzativo neutrale cioè non di parte non politicizzato e fortemente organizzato per essere coronato da successo la burocrazia appunto tuttavia che ne è stato del modello Weberiano in tempi noi più vicini se lo sviluppo storico ha dimostrato che la burocrazia è stato un prezioso strumento di consolidamento dei regimi delle politiche democratiche perché allora negli ultimi anni negli ultimi decenni potremmo dire si sono introdotti vehementi attacchi alla burocrazia tanto nel mondo glosassone ho in mente in particolare Stati Uniti Gran Bretagna ma anche nell'Europa continentale gli apparati burratici sono stati spesso descritti come costosi come eccessivamente dimensionati come un peso sulle spalle dei contribuenti in special modo per quanto riguarda il loro costo fiscale appunto in Italia la burocrazia è sempre stata più percepita per esempio come un apparato inutile o persino dannoso ricettacco di malaffare corruzione clientelismo ecco in realtà possiamo individuare almeno due sviluppi che stanno a monte di questa opinione pubblica e poi scelte di policies non proprio diciamo in linea con l'apparato e con i tratti distintivi del modello weberiano di burocrazia la prima riguarda l'equiparazione con il funzionamento del mercato la radice intellettuale di questa critica sta in un liberalismo integrale diciamo così per usare un'espressione di Bruno Leoni che vede l'apparato pubblico come una organizzazione che esattamente come il mercato dovrebbe rispondere a bisogni non più di cittadini ma di clienti o di utenti la versione intellettualmente più organica di questa reazione accennavo prima è il new public management che delinea un modello alternativo e vedremo qual è di burocrazia rispetto a quello che vedremo il secondo ordine di sviluppi che ha incentivato in qualche modo rafforzato la critica dell'apparato pubblico sta nella progressiva deprofessionalizzazione della stessa pubblica amministrazione e la sua conseguente politicizzazione si tratta di una conseguenza per certi versi prodotta nelle democrazie mature dalle politiche neoliberali ispirate dal new public management ma per altri versi deriva dall'atteggiamento dei governanti verso la democrafia stessa un autore statunitense rispetto a questi elementi ha scritto che la prima vittima certa della politica del novecento è il civil service cioè la burocrazia pubblica intesa come attività neutrale e non di parte nel senso che l'appartenenza e la realtà politica leader partiti esecutivi è sempre più diventato un criterio guida per la nomina di posizioni specialmente nelle burocrazie d'alto grado nelle cariche burocratiche di alto grado nei sistemi democratici consolidati a scapito per esempio o in sostituzione del criterio weberiano della competenza naturalmente non si tratta di nomine diciamo così illegali o di prassi illegali piuttosto di prassi tendenzialmente omogenei che si sono imposte nel comportamento concreto dei governi democratici e che hanno acquistato vigore nelle moderne democrazie sembra cioè che i governanti siano sempre più convinti dei vantaggi derivanti dal poter usufruire di uno strumento burocratico diciamo così aperto ai desiderati della classe politica uno strumento docile fedele leale nelle loro mani e paiono scarsamente consapevoli dei rischi che questo tipo di strumento può comportare cercheremo di entrare un po' in più nello specifico di queste dinamiche offrendo gli opportuni esempi bene possiamo in qualche modo cercare di portare a sintesi quelli che sono i tratti essenziali che hanno ispirato il new public management cioè questa critica intellettuale corrosiva nel nome di un'equiperazione dei meccanismi di mercato alle burocrafie pubbliche che ha avuto largo corso specialmente negli Stati Uniti ma non solo tracce di questa di queste critiche si sono ravvisate nelle scelte di policy di Margaret Thatcher e tutto sommato se guardiamo ai trend come avrò modo di asserire che hanno preso piede nelle democrazie mature dell'Europa continentale anche qui ci sono echi di queste di questa critica diciamo neomercantilista potremmo chiamarla all'apparato pubblico vediamo allora di portarne a sintesi come dicevo gli elementi principali il primo è senza dubbio quello che potremmo chiamare imprenditorialismo cioè l'innovazione le straneità ai circuiti classici del professionalismo burocratico sono visti da New Public Management come elementi da incoraggiare e non da sanzionare e qui se volete c'è una critica neanche tanto nascosta alla rigidità invece del modello Weberiano al centro sta l'idea al contrario della flessibilità contro come dire il criterio formalistico del rispetto delle procedure codificate sta la centralizzazione sulla figura del burocrate come elemento creativo come elemento innovatore anche se questo contrasta con le procedure codificate con le regole codificate secondo elemento se questo primo elemento faceva riferimento a colui che presta diciamo la sua opera nella burocrazia il secondo elemento fa riferimento ai destinatari delle politiche pubbliche e piuttosto decisamente implica un riorientamento alla cosiddetta utenza al cliente più che al cittadino cioè l'idea che lo scopo di ogni agenzia pubblica di ogni ente pubblico sta nella soddisfazione di un determinato gruppo di utenti e clienti che ha determinate preferenze di nuovo questa idea confligge direi radicalmente contro quella Weberiana della stretta aderenza alle regole all'idea della competenza dei compiti prefissati delle procedure standard terzo elemento del new public management è da riconoscersi nel principio di livellamento della stratificazione e quindi delle gerarchie interne alla burocrazia cioè in questo senso c'è una come dire il bersaglio di questo tipo di critica è da riconoscersi nella criterio di divisione del lavoro iperrazionale che il modello Weberiano porta con sé l'enfasi non è più sul singolo funzionario bensì sullo staff sulla squadra sul collettivo quindi questo necessariamente implica un'attenuazione delle barriere gerarchiche e laddove questo principio vuole essere realizzato rende necessari evidentemente delle riforme strutturali del corpo burocratico ultimo principio su cui si fonda sto cercando naturalmente di procedere per sintesi per grande semplificazione il new public management è come dire il perseguire forme alternative di realizzazione delle politiche pubbliche di implementazione delle politiche pubbliche anche qui c'è l'invocazione se volete di una revisione strutturale del modello Weberiano in vista del mutamento dei paradigmi attraverso cui è possibile garantire i servizi i prodotti di cui le burocrazie pubbliche sono responsabili presso i cittadini cittadini che ricordo in questo paradigma diventano utenti diventano clienti potremmo quasi dire consumatori e quindi le strategie adottate dai governi da questo punto di vista sono differenti si va dalla diminuzione del budget destinato alle burocrazie al ricorso alla contrattualità esterna per fornire gli stessi prodotti una volta forniti o gli stessi servizi una volta forniti dalle burocrazie pubbliche alla devoluzione delle prestazioni abbiamo grande esemplificazione per esempio una devoluzione verso il basso alle regioni in Italia una devoluzione verso l'altro verso l'alto nei paesi membri dell'Unione Europea verso la stessa Unione Europea oppure addirittura ad altre autorità esterne al circuito della rappresentanza ecco l'enfasi passa dall'input se vogliamo all'output ora molte delle riforme varate negli ultimi trent'anni del novecento nei paesi europei anglosassini improntate a questo tipo di modello la mola per molti di questi governi è stata la diffusa delegittimazione a livello di massa della pubblica amministrazione confermata i dati di sondaggio cito solo qualche cifra esemplificativa tra il 1981 e il 1996 nelle democrazia la percentuale dei cittadini insoddisfatti della pubblica amministrazione si è costantemente collocata sopra il 40% con un minimo di 41% in Norvegia e un massimo dell'Italia nel 1990 del 75% la privatizzazione delle funzioni pubbliche come risposta a queste critiche è stata una scelta operata ovunque nei paesi democratici maturi tra gli anni 80 e 90 con diversi gradi di incidenza molto alti in Gran Bretagna e in Italia a livello medio per esempio in Spagna e in Francia così come la riduzione della consistenza numerica del personale impiegato nella pubblica amministrazione e la decentralizzazione delle sue funzioni per esempio verso le entità regionali quindi non in tutti i paesi l'ondata riformatrice ispirata dal New Public Management ha colpito diciamo così con la stessa intensità e con le stesse modalità e per conseguenza non ovunque ha prodotto gli stessi risultati ad esempio vi sono autori che parlano della Francia da questo punto di vista come riformatore riduttante e tuttavia è riconoscibile una omogeneità nel segno del New Public Management dei disegni riformatori varati un po' avunque in Europa continentale e negli Stati Uniti a cavallo appunto gli anni 80 e 90 del 900 accanto alle riforme ispirate al modello del New Public Management vi sono altri sviluppi che hanno in qualche modo colpito e cumulandosi agli effetti delle riforme hanno contribuito ad una ondata di opinione pubblica diciamo così critica verso la stessa esistenza delle burocrazie pubbliche nei paesi democratici matori mi riferisco sempre all'area anglosassone e all'Europa continentale per certi aspetti un evento che ha prodotto ancora più conseguenze che ha colpito ancora più in profondità il modello classico Weberiano sta nel declassamento delle professioni delle professioni burocratiche e nella loro progressiva politicizzazione voglio fare solo qualche esempio rispetto a questi due sviluppi collocando il nostro punto di osservazione privilegiato essenzialmente sulla Francia che è un paese che ben esemplifica entrambe le dinamiche in Francia per lungo tempo la carriera nella pubblica amministrazione è stata per gran parte del XIX e del XX secolo una delle carriere più ambite a livello diciamo così della professione di elite ciò è comprensibile alla luce di diversi fattori specifici francesi i privilegi per esempio legati all'occupazione delle cariche di vertici dell'amministrazione pubblica oppure la possibilità di cumulare diverse cariche consentite dalla legislazione francese ancora le opportunità di passare dagli alti gradi dell'amministrazione alla politica e al mondo degli affari passaggio generalmente coronato da successo non ultimo una formazione di eccellenza fornita dall'Ecole nationale dell'amministrazione la cosiddetta ENA a cavallo del ventesimo e ventunesimo secolo però si è verificata una importante inversione di tendenza ciò è dovuto a diversi fattori pensate alla diminuzione del ruolo del cosiddetto età di registe in Francia effetto dovuto in larga parte al varo di processi di privatizzazione non più eludibili e alla progressiva devoluzione di autorità prima verso la comunità economico europea e poi verso l'Unione europea tutto questo è certificato da alcuni dati ne cito solo qualcuno pensate che i candidati all'esame finale dell'ENA passano dal 1374 nel 1995 a 995 nel 99 in 4 anni un calo del 30% la diminuzione dei passaggi dal pubblico al privato nei ruoli di elite l'impiego pubblico cioè cessa agli occhi dei francesi o comunque dei titolari di una formazione di eccellenza di apparire come un trampolino di lancio per una professione di prestigio gioca un ruolo anche la crescente politizzazione avrà modo di ritornarci dell'apparato pubblico e comunque il trend generale ovunque vi è la percezione della diminuzione di autorità del prestigio sociale associati alle burocrazie pubbliche da un certo punto di vista qui non è come posso dire non è difficile riconoscere uno dei principi cardi del new public management che mirava a mutare la natura del rapporto tra cittadini e stato il cittadino diventa cliente diventa consumatore il che sta alla base di tutti i disegni riformatori finalizzati ad offrire un servizio burocratico a prezzi di mercato a questo scopo le riforme ispirate del new public management per beneficiare di largo consenso cosa necessita si devono reggere su due presupposti non politizzare la burocrazia cioè non fare della burocrazia un campo di divisione politica ed essere nei loro effetti politicamente neutrali in realtà però se andiamo a vedere gli sviluppi concreti che queste ondate riformatrici hanno avuto hanno avuto effetti decisamente contrari sono stati veicoli di politicizzazione oltre che di declassamento della professionalizzazione burocratica perché gli strumenti burocratici necessari alle riforme strutturali proprie del new public management sono stati crescentemente percepiti dai governi incaricati di realizzare quelle riforme come più affidabili se anche omologhi o simpatetici politicamente cioè si tratta di un pregiudizio se vogliamo di matrice razionalistica ci si attende cioè che la burocrazia in quanto corpo dello Stato sia responsabile e rispondente tanto ai governi quanto ai cittadini e questo lascia spazio ai governi democratici per assicurarsi la lealtà politica dei burocrati o almeno di quei di alto livello anche a livello di massa e fuori dagli Stati Uniti abituati allo spoil system il tentativo di guadagnare il controllo della burocrazia ad opera dei governi democraticamente eletti non è più visto nemmeno a livello di opinione pubblica come discutibile o censurabile anzi se andiamo a vedere un esempio concreto ancora la Francia la pratica è largamente diffusa sebbene non apertamente ammessa o come dire giustificata vi è in qualche modo una conservazione della finzione come ha scritto qualche autore della neutralità dell'apparato dello Stato ma in realtà l'alternanza al governo nel sistema politico francese conduce a mutamenti nelle nomine burocratiche secondo modalità intensità variabili che però ancora al fine del ventesimo secolo erano sconosciuti in altri contesti europei per esempio tra il 59 e gli anni 90 si è assistito in Francia a due sviluppi che si sono rafforzati a vicenda la crescente ondata tecnocratica per cui i politici i leader politici sono crescentemente il prodotto di una formazione dell'ena cioè volta alle alte burocrazie pubbliche e l'accesso alle cariche politiche vedeva come criterio preferenziale la provenienza degli altri gradi della burocrazia e dall'altra parte la crescente politicizzazione delle nomine di vertice nella pubblica amministrazione quest'ultima pratica comune a gollisti e socialisti ad esempio tra l'86 e l'88 1986 e 1988 più del 80% dei direttori delle amministrazioni centrali furono sostituiti il 55% nel 1993 e potremmo fare lo stesso ragionamento ad ogni alternanza di governo nello stesso tempo cresce la percentuale di queste figure che proviene da percorsi esterni nella pubblica amministrazione questo è un ulteriore indice di crescente politicizzazione nella burocrazia francese e diminuisce specularmente la quota di impiegati della pubblica amministrazione che proviene invece della formazione dell'ecole nazionale quindi tendenze omogenee negli ultimi anni non solo francesi ma che possiamo riscontrare mutatis mutandis anche altrove quindi tiriamo un po' le fila del nostro ragionamento l'equiperazione del mercato la deprofessionalizzazione e la politicizzazione hanno avuto l'effetto lungi dal far recuperare legittimità anche di massa se vogliamo cioè consenso cioè visioni positive diffuse nella popolazione aventi per oggetto la pubblica amministrazione hanno queste riforme questi sviluppi hanno invece avuto l'effetto di paradossalmente incrementare le opinioni negative nelle democrazie mature relativamente alle pubbliche amministrazioni e allora qual è il punto di arrivo di questo ragionamento cosa è necessario fare per invertire la tendenza naturalmente in questa sede non si vogliono offrire consigli ai legislatori il punto però fondamentale da cui partire che va tenuto è tenere insieme il trinomio da cui abbiamo accennato in apertura democrazia burocrazia stato moderno a questo scopo le riforme strutturali sono necessarie il punto è come adattare la burocrazia a contesti che cambiano perché le nostre società sono in continua evoluzione in modo da conservare i principi weberiani di efficienza e responsabilità e di non percorrere vie come quelle succentamente esposte in questa sede che conducono alla distruzione e in ultima analisi allo smantellamento delle istruzioni della burocrazia secondo il modello classico weberiano e per questa via pongono indirettamente in discussione la stessa tenuta dei sistemi democratici la fiducia nello Stato e nei suoi apparati aumenterebbe se l'efficienza della pubblica amministrazione fosse incentivata e la fiducia è il collante che tiene insieme le comunità politiche deriva anzitutto dalla effettività della rule of law dello Stato di diritto e dal comportamento delle istituzioni riportare cioè al centro il concetto di cittadino titolare di diritti piuttosto che di cliente che paga per un servizio per una prestazione è un elemento a mio avviso centrale per recuperare da un lato una maggiore efficienza della burocrazia nel rispetto dall'altro del modello originario veberiano se ci pensiamo la percezione del cittadino come cliente come consumatore trascura del tutto la dimensione solidaristica l'esistenza cioè di vinco e di solidarietà derivanti per i cittadini di essere parte di una stessa collettività amministrata da un unico centro di potere che se vogliamo è l'innovazione principale dello Stato moderno che deve essere però in democrazia legittimato dal basso certo oggi i paesi europei Italia inclusa devono fare ancora molto per trasformare le loro burocrazie in istituzioni meno costose e questo è il primo passo per un recupero di legittimità ma devono capire che mettere in mano allo spazio pubblico o alla pubblica amministrazione all'assetto burocratico delle democrazie non significa attaccarne il ruolo o la salienza la burocrazia non è una minaccia della democrazia è uno strumento della democrazia uno Stato democratico moturo cioè non può fare a meno e qui bisogna recuperare se vogliamo le dichiarazioni dei leader democratici delle origini che rimangono vere vecchie se vogliamo datate ma non invecchiate nella sostanza che non è possibile fare a meno di una burocrazia che recuperi appieno il modello classico weberiano e lo adatti alle esigenze dei tempi l'evidenza storica di questa affermazione direi che si può dare per acquisita e rimane indiscutibile grazie a tutti